Danneggiato nella notte un distributore automatico di sigarette posto all'ingresso di una tabaccheria all'interno della zona commerciale di Sant'Orso a Fano. Il fatto sul quale sono in corso le indagini, almeno secondo le prime dichiarazioni rilasciate dal titolare della tabaccheria, è avvenuto intorno alle 3.30 della scorsa notte. Ma saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza, sempre che l'impianto sia funzionante, a chiarire maggiormente le dinamiche. Oltre al danno economico delle sigarette rubate, ingenti sono stati danni strutturari alla scocca del distributore, dove, per capirci, sono presenti i meccanismi di lettura di carte magnetiche e banconote, componenti che hanno costi molto elevati e che, data la dinamica, difficilmente potranno essere sostituiti. Grazie a tutti.